Una festa di sport, ma anche una manifestazione da mettere in sicurezza. A Euro 2024 aumentano le bravate dei tifosi, dal lancio di oggetti alle irruzioni in campo, come quella di un youtuber tedesco che, travestito da mascotte della competizione, si è gettato sul rettangolo erboso durante la cerimonia di apertura del torneo. Un'azione ben orchestrata che gli operatori della sicurezza temono possa ripetersi. E' la nuova frontiera della tifoseria social, che non si accontenta più degli spalti e si getta nella mischia per strappare magari un selfie al beniamino di turno. La polizia tedesca precisa che la sicurezza di Euro 2024 è gestita dall'UEFA. Secondo gli addetti ai lavori, l'organizzazione non è calibrata alle esigenze del torneo e il personale non è sufficientemente addestrato. L'altro timore è legato agli accessi e alle uscite, difficili da aprire in caso di emergenza o situazioni di panico. Anche la prossimità dei tifosi al campo e l'assenza di una barriera protettiva è un invito a rompere le regole e ad accorciare le distanze con gli idoli del calcio. E' più comfort per i fan di cercare il calcio, potremmo piacere il gioco meglio, ma ovviamente crea nuove difficoltà di sicurezza. E' difficile proteggere i giocatori. E' importante per i fanci di essere capiti di servire la polizia e di capire che se vogliamo mantenere questo comfort quando siamo in un stadio, bisogna rispettare il calcio. Euro 2024 durerà fino a domenica 14 luglio con la finale che si disputerà a Berlino.